Il 27 marzo a Milano, all'interno del Salone del Risparmio, Abiformazione terrà un workshop dedicato al regolamento IVAS. Perché avete scelto questo tema? Perché questo tema in questo momento è nell'occhio del ciclone. Il nuovo regolamento IVAS sui requisiti di professionalità cambia profondamente il quadro normativo precedente e rende più stringenti i requisiti d'efficacia, perimetra in modo circostanziato i contenuti della formazione che IVAS si aspetta e rende più flessibili le metodologie didattiche. Quindi Abiformazione sta lavorando molto in questo momento sia sulla interpretazione del nuovo regolamento, ma anche sulla messa a punto di un'offerta formativa che sia non solo coerente con i nuovi requisiti regolamentari, ma che sia anche efficace e che risponda veramente ai bisogni formativi degli intermediari. Da questo punto di vista che cosa caratterizza la vostra iniziativa di formazione? Innanzitutto la stiamo costruendo insieme alle banche, quindi abbiamo organizzato dei tavoli di confronto per costruire insieme la nuova esperienza. Presenteremo uno step al Salone del Risparmio, perché comunque il cammino non è terminato e la particolarità della nostra offerta è che utilizzando la metodologia della formazione a distanza, che oggi IVAS rende equivalente alla metodologia della formazione d'aula, stiamo creando un'offerta che abbia altrettanto appeal, altrettanto modalità di interazione, che quindi non faccia rimpiangere la formazione in presenza. Il lavoro è non facile sia appunto per scegliere quelli che sono comunque i contenuti fondamentali, sia per declinarli per esempio non partendo dall'analisi normativa, ma l'idea di partire dalla casistica più frequente che gli operatori in banca trovano. Quindi proveremo a lavorare per casi, proveremo a rispondere a domande, proveremo quindi ad utilizzare e stiamo appunto implementando la strategia didattica più vicino possibile all'operatività quotidiana delle nostre banche. Perché è importante partecipare a questo workshop? Perché chi parteciperà al workshop parteciperà al viaggio. Il workshop sarà una tappa del viaggio, chi sarà presente interagirà con noi, in quanto non vuole essere un workshop unidirezionale, ma sarà la presentazione di un'idea e l'idea sarà sviluppata insieme. Quindi ci farebbe piacere che a questo viaggio partecipassero più viaggiatori possibile, perché arrivare insieme alla meta vuol dire arrivare a una meta condivisa. Vi aspettiamo numerosi al workshop del 27 per costruire insieme questa nuova esperienza d'apprendimento. Grazie a tutti!